Era atteso ed è arrivato da Somma Lombardo camminando fino alla Rocca di Arona. Alessandro Belliere, classe 1933, non finisce di stupire. Infatti, per festeggiare i suoi 90 anni di vita all'insegna del movimento e dell'attività fisica all'aria aperta ha deciso di affrontare la sfida. I 90 castelli del Nord Italia, un itinerario di oltre 2000 chilometri in nove regioni. Era partito da Trieste. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Beba Steck House, a Ornavasso.